Confindustria L'Aquila si prepara a vivere una nuova fase, finita la presidenza turbolenta per le spaccature interne che hanno caratterizzato soprattutto gli ultimi tempi di Marco Fracassi che ha guidato il gruppo degli industriali per quattro anni. Al suo fianco anche il fedelissimo neodirettore dell'associazione industriale Francesco De Bartolomeis. Un'occasione questa mattina per illustrare i progetti avviati in provincia dell'Aquila per attrarre nuovi investimenti con particolare riferimento alla sinergia tra grandi gruppi industriali e piccole e medie imprese e di quelli in itinere con importanti collaborazioni con l'università e i centri di ricerca. Vorrei citare tra quelli più importanti abbiamo ospitato il Roadshow sull'internazionalizzazione, sull'impresa 4.0, su sanità 4.0 e abbiamo inoltre realizzato delle progettualità sul tema dell'energia e sul credito. Mi viene anche da dire che abbiamo diciamo rafforzato il rapporto con gli enti in particolare con l'Arap che evidentemente insiste sul nucleo industriale istituendo la consulta permanente di cui noi siamo membri e che siamo stati i promotori insomma dell'istituzione di questa consulta. Oltre questo mi viene anche da dire che abbiamo realizzato quello che è un rafforzamento della visibilità delle aree interne. Già nel 2016 noi abbiamo diciamo cambiato la nostra diminuzione in Confindustria dell'Aquila a Bruzzo interno. Oggi molti politici cavalcano questo discorso delle aree interne e noi già dal 2016 lo abbiamo fatto. quindi rivendichiamo anche un po' la paternità di questa locuzione e ovviamente una cosa importante che ci tengo a dire è che questo mandato è stato particolarmente appassionante e mi ha sostanzialmente molto arricchito. Un passaggio importante resta ancora da fare la fusione con Confindustria Teramo da sempre sostenuta da fracassi che si auspica proceda con il nuovo presidente Riccardo Podda. La fusione con Teramo è il tema più delicato ma ritengo un tema strategico per la nostra associazione perché da Confindustria Nazionale arrivano segnali molto importanti in questa direzione. Le fusioni sono un percorso obbligato e ci dobbiamo rafforzare e fare sistema fra territori e non arroccarci e rimanere diciamo come prima. Un tessuto industriale è quello della provincia di L'Aquila che tiene nonostante le crisi degli ultimi anni anche se preoccupa la situazione occupazionale che non cresce. In tal senso non aiutano secondo fracassi gli ultimi interventi del governo come il decreto dignità e il reddito di cittadinanza.